eccoci qua e ben ritrovati nella seconda puntata di questo miniciclo di incontri o seminari o modulo di approcci economici al diritto nell'ambito del corso di filosofia del diritto che di cui fate parte allora io come sempre sono già in modalità condivisione passo subito alla modalità di schermo intero di cosa ci occuperemo oggi abbiamo fatto una breve introduzione per dirvi in che modo cercheremo di affrontare questo tipo di approcci oggi in particolare tratteremo forse uno degli approcci che storicamente parlando è stato certamente il capofila quello più importante almeno da un punto di vista storico cioè quel tipo di approccio che ha in qualche modo introdotto lo stesso concetto di analisi economica del diritto e infatti è questo proprio il vero e proprio nome della cosiddetta economic analysis of law tradotta in italiano come analisi economica del diritto per semplificare nelle slides che vedrete a breve con questo acronimo a e di che appunto sta per analisi economica del diritto forse il modo migliore per iniziare a capire che cosa è significato questo tipo di approccio dal punto di vista storico sono e provare a raccontare o leggervi meglio tre citazioni che in qualche modo rappresentano una sorta di profezia possiamo usare questa parola fatta da tre grandi personaggi pensatori il primo edmund burke secondo famoso giudice justice oliver wendell holmes è sempre lui in un'altra citazione che adesso vi tradurrò e vi leggerò in maniera tale che possiate capire di cosa stiamo parlando la prima quella di edmund burke ci dice che l'età della cavalleria è andata è andata per sempre quella dei sofisti degli economisti e dei calcolatori è subentrata e la gloria dell'europa sarà estinta per sempre burke qui sembra intuire il fatto che era tra l'altro amico stretto di adam smith sembra intuire che l'emersione della scienza economica come nuovo paradigma di analisi del mondo economico con tutte le implicazioni che abbiamo iniziato ad accennare nella lezione introduttiva stabilisca una sorta come dicevamo una sorta di precedente cioè l'emersione di un sapere non è mai neutro per altri saperi la seconda citazione quella del justice oliver wendell holmes è questa lui dice siamo nel 1897 per lo studio reazionale del diritto l'uomo appunto il classico black letter man potrebbe essere l'uomo del presente o lo scrivacchino o diciamo il leguleo il giurista qui quasi con un'accezione spregiativa ma l'uomo del futuro è l'uomo che conosce e padroneggia la statistica e l'economia la terza e ultima citazione sempre dello stesso oliver wendell holmes è ogni giurista dovrà cercare di capire la scienza economica lì in questo sapere nella scienza economica siamo chiamati a considerare a soppesare i fini della legislazione i mezzi per raggiungerli e i costi così impariamo che per qualunque cosa noi abbiamo dobbiamo rinunciare a qualcos'altro e ci viene insegnato a in qualche modo soppesare valutare i vantaggi che guadagniamo nei confronti di quei tipi di vantaggi invece che perdiamo e quindi a sapere che cosa stiamo facendo quando impostiamo i nostri piani di azione i nostri piani di vita perché queste tre citazioni sono importanti perché in effetti come dicevo all'inizio già come aveva intuito premonito edmund burke 1790 l'emersione di un sapere qual è la scienza economica cambierà in qualche modo anche le stesse sorti del diritto o il modo in cui la regolamentazione dell'economia era solitamente apprestata con i classici strumenti giuridici ora chi sono i padri fondatori di questa di questo approccio qui trovati i primi due quelli che classicamente convenzionalmente sono riconosciuti come da un lato a sinistra in alto ronald coase e sotto in basso guido calabresi sono riconosciuti come gli antesignari o i padri fondatori di questa disciplina ronald coase premio nobel dell'economia nel 1991 passato la storia in generale dell'economia ma ovviamente dell'analisi economica del diritto con questo suo famosissimo articolo che trovate qui in alto a destra pubblicato per il journal of law and economics the problem of social cost il problema del costo sociale articolo appunto scritto nel 1960 che appunto si considera convenzionalmente come dicevo prima il momento fondativo quando a cos venne conferito il premio nobel con questa motivazione che trovate qui cioè per la scoperta e la spiegazione dell'importanza che costi di transazione i diritti di proprietà hanno nella struttura istituzionale e nel funzionamento dell'economia quando a lui venne conferito questo premio nobel in verità nel 1991 gli studi di analisi economica del diritto erano già abbondantemente sviluppati avevano già come dire preso diversi rivoli si erano cominciati a sviluppare in una miriade di nuove direzioni ben lontane da quelle che aveva impostato lo stesso cause quanto a calabresi anche lui l'anno dopo 1961 pubblica questo articolo in yellow journal some thoughts on risk distribution and the law of torts un articolo famoso che appunto si concentra ci torneremo anche fra un po su una certa branca del diritto e cerca di applicare gli strumenti economici al diritto cioè la strumentazione ovviamente dell'economia dell'epoca al diritto solo per citare solo per diciamo fare una breve carrellata di di questi padri fondatori merita forse anche ricordare almeno per gli anni successivi richard posner nato nel 1939 e ancora vivo come calabresi che è probabilmente il giudice è un giudice federale ma anche giurista più famoso almeno stando al numero di citazioni che hanno ricevuto i suoi lavori e ancora fino a poco tempo fa era tra i giuristi più citati in assoluto questo anche per darvi un'idea di come l'analisi economica del diritto si sia imposta a livello accademico a livello di pubblicazioni a livello di riviste specializzate sul tema e così via e lui tra l'altro è anche l'autore di uno dei testi più famosi dell'analisi economica del diritto credo adesso che sia arrivato addirittura alla nona o la decima edizione questo era appunto la economic analysis of lo un termine che da un certo punto di vista dobbiamo proprio un'espressione che dobbiamo proprio a due merita anche ricordare gary baker altro primo nobel dell'economia 1992 famoso soprattutto per aver realizzato quella che secondo alcuni è l'inizio di questo imperialismo della scienza economica cioè di aver preso la strumentazione della scienza economica applicando la diversi ambiti del comportamento umano famoso appunto è il libro che appunto rega questo titolo l'approccio economico al comportamento umano del 1976 ci sono poi anche altri autori ma di questi ce ne occuperemo meglio nel prosiego in particolar modo quando parleremo della institutional economics douglas north anche lui premio nobel dell'economia un altro premio nobel dell'economia uno dei pochi premi nobel di sesso femminile anninor ostrom e poi anche oliver williamson ma di questi appunto ce ne occuperemo dopo ora per cominciare a capire che cos'è l'analisi economica del diritto cominciamo finiamo questo quadro storico e consideriamo quanto segue l'analisi economica del diritto sostanzialmente a partire dagli anni sessanta e sviluppatasi originariamente negli usa nei sistemi di common law ha poi guadagnato terreno seppur non con la stessa forza influenza anche nei sistemi di civil law anzi in verità i sistemi di civil law hanno all'un per un certo periodo quasi fatto resistenza all'importazione di questo modo di pensare e di studiare il rapporto tra diritto economia certo è che questi approcci di analisi economica del diritto come vi dicevo prima già negli anni 90 erano abbastanza sviluppati al punto che venivano insegnati molte università americane e hanno sviluppato teorie sempre più sofisticate teorie economiche della proprietà dei contratti della responsabilità civile penale del processo della costituzione vi ricordate che citavo anche la cosiddetta constitutional political economy oppure dei sistemi elettorali quindi hanno sostanzialmente conquistato ambiti tradizionalmente considerati di dominio esclusivo di giuristi ed esperti del diritto dunque veniamo innanzitutto ad una prima definizione di analisi economica del diritto questa è una definizione sufficientemente generale da essere diciamo inclusiva di tutti questi approcci che ormai vanno sotto l'etichetta di analisi economica del diritto essa può essere definita in questo modo è la disciplina che applica gli strumenti della microeconomia all'analisi delle regole e istituzioni giuridiche al punto ancora una volta vedete siamo di fronte siamo di fronte a un uso di questa cassetta degli attrezzi l'apparato analitico in questo caso non dell'economia in generale ma della microeconomia che si occupa del comportamento degli individui quindi a livello in questo senso micro appunto applicato all'analisi delle regole e delle istituzioni giuridiche cosa cerca di fare l'analisi economica del diritto cerca di rispondere innanzitutto a due domande fondamentali che rappresentano anche i due principali approcci dell'analisi economica del diritto cioè quello rispettivamente positivo e normativo la prima domanda ha a che fare con l'analisi degli effetti delle norme giuridiche cioè quali sono gli effetti di queste norme sul comportamento degli attori sociali ad esempio una norma giuridica con la sua sanzione riduce o restringe o limita alcuni tipi di comportamenti ad esempio i comportamenti criminali se cioè ad esempio aumentassimo la sanzione ad esempio in termini di anni di carcere e così via quindi lo studio degli effetti la seconda domanda dominante di un altro tipo di approccio più vicino secondo alcuni a quella che una volta era ancora chiamata la cosiddetta scuola di Yale cioè vicina più che altro a Calabresi uno dei due padri fondatori dell'analisi economica del diritto e l'approccio appunto normativo anche noto come riformista cioè si chiede sostanzialmente se gli effetti delle norme giuridiche sono socialmente desiderabili cioè sono buone o cattive uso queste espressioni tra virgolette perché dovremmo precisare in che senso si possano giudicare delle norme come buone o cattive vi posso già anticipare che il criterio regolativo di riferimento dell'analisi economica del diritto è una certa nozione di efficienza quindi è buona quella norma che implementa o realizza o aumenta l'efficienza complessiva di un sistema non è buona la norma che viceversa non raggiunge questi obiettivi e quindi ad esempio se siamo di fronte a un fallimento del mercato pensate al monopolio o all'esternalità il mercato va regolamentato appunto per ridurre o eliminare quel tipo di fallimento perché dal punto di vista della scienza economica è sostanzialmente appunto una inefficienza ora ci sono degli assunti quelle che appunto possiamo chiamare le lenti dell'analisi economica del diritto il primo fondamentale assunto è che gli individui rispondono agli incentivi da qui che tra l'altro un assunto tipico della scienza economica un assunto che riguarda proprio il comportamento umano in questo senso vedete è microeconomia e riguarda un certo modo di intendere il comportamento umano cioè il fatto che gli individui se sottoposti immaginate a variazioni di prezzo secondo una legge della domanda e dell'offerta risponderanno risponderanno a questa variazione in un certo modo se il prezzo sale ad esempio io consumatore dovrei secondo la teoria economica comprare di meno un certo bene quindi il prezzo è il primo stimolo il primo incentivo che io da attore economico ricevo sul mercato lo stesso si potrebbe dire per loro per quanto riguarda le norme giuridiche cosa vuol dire che l'analisi economica del diritto ha una concezione delle norme come incentivi questa è un'espressione che mutuo da de nozza con il quale in passato tra l'altro ho avuto anche il piacere di condividere un corso in bocconi che si occupava di queste cose norme come incentivi il titolo di un suo testo vuol dire che la norma può essere intesa appunto come incentivi disincentivi cioè come premi e punizioni una norma a cui si accompagna una sanzione secondo questa prospettiva se è una sanzione sarà ovviamente un disincentivo se io secondo questa analisi molto schematica aumento o alzo per così dire la sanzione l'individuo dovrebbe rispondere dovrebbe rispondere a questo disincentivo riducendo il suo comportamento se queste premesse sono vere il diritto allora viene concepito come un metodo per ordinare la società e conseguire obiettivi sociali quali obiettivi sociali per esempio il diritto può creare incentivi affinché gli individui si comportano come dicevamo prima in un certo si comportino in un certo modo oppure può aiutare l'individuo a raggiungere i loro obiettivi legittimi quindi perché l'economia entra così pesantemente l'economia come scienza come sapere entra così pesantemente dentro questo discorso proprio perché come abbiamo anticipato adesso dovrebbe iniziare ad essere un po più chiaro l'economia fornisce proprio quelle tecniche sia teoriche che empiriche per esaminare gli effetti del diritto cioè per rispondere a quelle due domande da cui eravamo partiti cioè quali sono gli effetti di determinate norme effetti in questo caso di natura prevalentemente economica e che cosa succede quando andiamo a diciamo analizzare anche gli aspetti normativi di queste di queste norme cioè se sono buone o cattive nel senso in cui dicevamo prima in generale che cosa fanno queste queste assunzioni come si comportano tra virgolette queste assunzioni normative ed empiriche dell'analisi economica del diritto e come vengono utilizzate cerchiamo di precisare questo tipo di assunzioni perché la good society cioè la cosiddetta buona società è quella che realizza il massimo di benessere collettivo anche qui è abbreviato come mbc è un acronimo appunto di massimo benessere collettivo di chi dei suoi membri cercheremo poi di precisare meglio che cos'è questo massimo benessere massimo benessere collettivo il secondo assunto fondamentale che gli individui e le organizzazioni tendono ad impiegare la loro razionalità limitata per massimizzare i benefici netti delle loro scelte e quindi il loro benessere soggettivo quando diciamo che gli individui rispondono a incentivi stiamo appunto dicendo che stiamo implicitamente ricorrendo al famoso paradigma dell'homo economicus in verità l'idea di razionalità limitata è stata introdotta in seconda battuta nel senso che la scienza economica ha assunto almeno all'inizio in un paradigma di razionalità molto forte qualcuno la chiamava una razionalità olimpionica c'è una razionalità che assume che l'individuo sia onnisciente che conosca tutte le informazioni quando si muove sul mercato ad esempio i prezzi della loro variazione come interagiranno gli altri attori economici e così via però qui ne parliamo diciamo perché da un certo momento in poi in particolar modo da partire da un altro nobel dell'economia Herbert Simon questa nozione è diventata più o meno bread and butter direbbero gli inglesi cioè pane quotidiano di molti economisti anche se poi vedremo anche nella institutional economics questa nozione si c'è ma presenta tutta una serie di problemi che dovremmo meglio vedere quando analizzeremo le critiche rivolte a questo tipo di approcci la seconda il secondo assunto molto importante è come abbiamo detto quando si parlava di norme efficienti e che l'analisi economica del diritto ricerca questa norma efficienti cioè cerca di svilupparle scriverle interpretarle anche come norme efficienti o anche addirittura di paragonare norme esistenti con altre norme alla ricerca di quali sarebbero le migliori norme che realizzano questa efficienza perché questa ossessione chiamiamola così per l'efficienza perché uno dei postulati della scienza economica è proprio la scarsità delle risorse adesso lo vedremo meglio anche nella prossima slide assumere il postulato della scarsità delle risorse ha delle implicazioni notevolissime per il modo in cui il diritto viene concepito vedremo adesso che cosa c'entra questo col diritto il primo punto è che se parto dal postulato della scarsità delle risorse sto assumendo che gli individui interagiscono tra di loro cooperando e confliggendo nell'uso di risorse scarse appunto e e qui entra in gioco il diritto nella sua specifica non suo specifico anesso con l'economico le risorse possono essere concepite come assegnate attraverso transazioni pensate contratti o scambi e che cosa vuol dire questo che un altro grandissimo importantissimo postulato della scienza economica che gli scambi sono mutuamente benefici cioè due persone scambiano qualcosa per esempio un trasferimento di proprietà se entrambi hanno un mutuo vantaggio cioè se entrambi hanno qualcosa da guadagnare se io ovviamente non ho nulla da guadagnare nel cedere la mia proprietà non vedo perché dovrei cederla a qualcuno che mi fa un'offerta che ad esempio per me non è buona non rispetta il mio standard o la mia idea del limite minimo sotto il quale non sono disposto a scendere nel vendere questa proprietà il diritto quindi a partire da queste impostazioni da questi assunti entra in gioco perché le transazioni sono disciplinate da regole appunto vi dicevo prima immaginate i contratti che possono essere stabilite tramite contratti o oppure da dal legislatore quindi l'obiettivo principale dell'analisi economica del diritto è questa ipotetica e possibilmente pratica implementazione di norme efficienti cioè di regole che garantiscano la realizzazione di transazioni che sono in grado di massimizzare l'efficienza o il benessere complessivo perché si massimizza questo benessere complessivo immaginate solo per tornare al postulato del mutuo vantaggio cioè immaginate come dicevo prima di voler vendere la vostra proprietà una qualunque vostra proprietà vi dicevo prima voi accettate di venderla se e solo se il prezzo dell'offerente non scende al di sotto della soglia che per voi è una soglia critica c'è quella soglia al di sotto della quale non avete convenienza a vendere chi vi fa l'offerta fa lo stesso vostro ragionamento chi vi fa l'offerta dice sì io sono disposto a comprare quella proprietà se ad esempio questo prezzo che io vado a dare non è più alto di una certa soglia oltre il quale io non sono più disposto a comprare quindi capite che se c'è in margine da parte di entrambi i lati della transazione da parte di entrambi i soggetti coinvolti ci sarà un mutuo vantaggio cioè entrambi hanno qualcosa da guadagnare purché ripeto chi vende la proprietà la vende ad un prezzo che è superiore alla sua soglia limite chi l'acquista l'acquista ad un prezzo che non sia superiore alla sua soglia limite e questo significa che c'è sempre un margine di trattativa tra le parti che fa sì che a partire da loro assunti di partenza cioè la soglia minima da parte di chi vende la proprietà e la soglia massima di prezzo da parte di chi fa l'offerta significa che c'è un margine per cui entrambi abbiano qualcosa da guadagnare ovviamente non si è di fronte a un mutuo vantaggio allorché ad esempio qualcuno mi punta la pistola alla testa e quindi faccio un contratto coartato in cui cioè la mia volontà è storta e ovviamente io magari non volevo vendere ma di fronte come dire alla pistola puntata alla tempia io vendo ma questo non è il caso che ci interessa perché questa scarsità è importante perché la scarsità genera conflitto e il conflitto è ciò che di solito il diritto è chiamato a regolamentare ecco che le regole sono quindi concepite come meccanismi di allocazione di risorse scarse o contese o perché qualcuno vuole qualcosa e entrambi vogliono insieme ad un altro e quindi entrambi vogliono la stessa cosa o hanno pretese confliggenti sulla stessa cosa adesso cercheremo di spiegare questo ma il diritto il diritto è pieno di questo tipo di casi pensate all'inquinamento acustico tutte le cosiddette esternalità come le chiamano gli economisti cioè io vorrei suonare la batteria visto che io ero anche un batterista sto anche riprendendo a suonare la batteria mi metto in casa suonarla il mio vicino protesta io ho come dire un desiderio di usare la mia proprietà privata come meglio credo però qui produco un'esternalità e quindi c'è un conflitto tra le parti perché il mio vicino vuole silenzio a me invece piace il rumore perlomeno quello che a me non sembra rumore a mio vicino sembra rumore quindi che cosa si chiede l'analisi economica del diritto in merito a questo modo di concepire cosa fa l'analisi economica del diritto quando concepisce le regole come meccanismi di allocazione di risorse si chiede proprio questo cioè quali sono le risorse scarse che una norma assegnano le norme sul diritto di proprietà assegnano risorse scarse secondo regole ben precise quali sono le differenti pretese di assegnazione di queste risorse che danno vita al conflitto che la norma risolve per precisare questo aspetto facciamo un passo in più facciamo qualche esempio immaginiamo il diritto di proprietà a voi ben noto può essere visto come un complesso di norme che assegna risorse scarse al contempo risolve il conflitto emergente dalle diverse pretese di assegnazione di tali risorse pensate anche le norme di circolazione stradale possono essere intese come norme atte a regolamentare le diverse pretese di uso di quella risorsa in questo caso la strada che è scarsa perché è scarsa perché ci sono più soggetti pretendenti all'uso di quella risorsa cioè automobilisti motociclisti ciclisti i pedoni e così via e ognuno di questi ha una pretesa all'uso di quella risorsa scarsa le norme stradali addirittura in quest'ottica possono anche essere visti come viste nemmeno tanto esagerando ma mettiamo diciamo così esagerando un po possono essere anche viste come norme di allocazione di risorse scarse poi faremo un esempio più pertinente per quanto riguarda quel cenno che facevamo all'inizio di uno dei padri fondatori calabresi allora chiudiamo il ciclo di questo primo giro di assunti di questa prima spiegazione di che cosa fa l'analisi economica del diritto quando pensa alla regolamentazione dell'azione umana in particolar modo l'azione umana che ha spesso a che fare con il mondo economico quello del mercato se due o più attività interferiscono tra loro e o con l'attività di terzi come l'esempio che vi inquinamento non solo quello acustico di cui vi parlavo ma anche l'inquinamento lato senso o il più famoso caso del rapporto tra allevatore coltivatore lo vedremo con il teorema di cause perché aveva preso ad esempio proprio questo cioè di due persone che hanno dei terreni vicini che quindi fanno sì che il bestiame dell'allevatore sconfini nel campo del coltivatore faccia qualche danno quindi se due o più attività interferiscono tra loro e o con l'attività di terzi l'analisi economica del diritto cosa fa non analizza o interpreta questi fatti attività con le categorie tipicamente giuridiche quali causa d'effetto colpevole e vittima o giustizia ingiustizia ma si chiede qual è la combinazione un livello ottimale delle due attività che assicura il massimo benessere collettivo allora cerchiamo di precisare questa nozione che abbiamo di cui abbiamo parlato tante volte e che risulta ancora un po sfuggente il massimo benessere complessivo collettivo può essere inteso come la somma del benessere chiamamolo qui b positivo e negativo di tutte le parti in gioco facciamo un esempio situazione 1 c'è tizio che ha un benessere pari a 5 e caio un benessere pari a 4 il massimo benessere collettivo posta una società composta solo da tizio e caio e 9 cioè la sommatoria di 5 e 4 in una situazione alternativa situazione 2 in cui tizio ha un benessere pari a 1 e caio un benessere pari a 9 il massimo benessere collettivo è più alto perché la sommatoria di 1 e 9 da 10 ora dal punto di vista dell'analisi economica del diritto se ragioniamo in termini di welfare economics come viene anche chiamata cioè quella economia del benessere che è preposta a realizzare il massimo benessere complessivo la situazione ideale cioè la situazione che appunto realizza il massimo benessere collettivo e la situazione 2 che cosa vuol dire questo noterete subito che nella situazione 2 tizio come abbiamo detto a un benessere molto inferiore alla situazione 1 mentre caio invece è un benessere molto superiore rispetto alla situazione 1 questo questo fatto questo dato dovrebbe portarvi a dire ma per esempio la situazione 2 forse più ingiusta nel senso che più sperequata nel senso che c'è una diseguaglianza tra i due attori tizio e caio sì se dovessimo ragionare in termini di ricchezza ad esempio e se quel 1 e 9 rappresentano il benessere di tizio e caio rispettivamente quindi la loro ricchezza sì cioè è una situazione più diseguale ma il benessere complessivo è maggiore perché ho fatto questo esempio un po esagerando i dati perché l'obiettivo dell'analisi economica del diritto è appunto l'allocazione ottimale delle risorse non la giusta composizione degli interessi in conflitto o la giustizia distributiva o redistributiva e quindi capite adesso il senso dell'immagine che ho messo qui a destra cioè la famosa immagine che ho usato anche sullo sfondo delle slides nella primissima lezione introduttiva tratta da un celebre a fresco quello del Lorenzetti che è trovata nel palazzo civico di Siena è risalente al 1300 e l'immagine della giustizia dove i due lati di questa immagine sono appunto da un lato la giustizia commutativa dall'altro la giustizia distributiva in un senso molto classico sono separate qui da questa linea rossa perché l'analisi economica del diritto nella misura in cui enfatizza l'approccio economico al diritto utilizzando gli strumenti della scienza economica non guarda al problema tipicamente normativo di giustizia distributiva guarda solo a diciamo la produzione economica cioè a come vedremo fra un attimo all'espansione della torta più che la sua distribuzione questo significa che nell'analisi economica del diritto c'è una netta separazione analitica e funzionale tra quelle che possono essere appunto definite le questioni allocative e le questioni distributive per esempio schematizzando e semplificando un po tra diritto privato e diritto pubblico ecco la metafora della torta cioè per l'analisi economica del diritto l'espansione della torta immaginate che la torta sia il pile la ricchezza di un paese viene prima analiticamente e funzionalmente della sua redistribuzione cioè di chi si prende poi da questa produzione della torta potenzialmente sempre in espansione ma lo sappiamo lo sappiamo bene abbiamo passato diversi anni di crisi in cui la torta invece che espandersi si è ridotta però diciamo questa produzione almeno teoricamente è la questione che sta più a cuore all'analisi economica del diritto cioè sostanzialmente la questione dell'allargamento per usare un termine più tecnico del pile che vuol dire che è più importante l'espansione della ricchezza in primis almeno ripeto analiticamente e funzionalmente della sua redistribuzione poi l'analisi economica del diritto dice sì ma di questa redistribuzione della torta se ne può occupare il diritto tributario o la giustizia fiscale o il diritto pubblico e così via le politiche fiscali che per esempio hanno come obiettivo la redistribuzione della ricchezza le politiche di welfare o le politiche che vanno in aiuto in generale dei vulnerabili e quindi redistribuendo servizi pubblici e beni pubblici attraverso i soldi delle tasse in sintesi che cosa vuol dire tutto questo vuol dire che l'incentivazione dei comportamenti efficienti ricordate l'espressione norme efficienti o norme che realizzano un massimo di benessere collettivo significa assegnare le risorse a coloro che le utilizzeranno in maniera più efficiente e questo sarebbe nella prospettiva dell'analisi economica del diritto la stessa cosa del realizzare il massimo benessere collettivo quindi che cosa serve l'analisi economica del diritto può anche servire per l'interpretazione del diritto vigente per esempio per elaborare nuove regole in vista della realizzazione di questo massimo benessere collettivo o per l'espansione della torta o anche per micro regolamentazioni nell'ambito del diritto privato del tort law come appunto adesso vedremo e può anche però darsi il caso che le interpretazioni dell'analisi economica del diritto siano in parte anche confliggenti con altri tipi di interpretazione del diritto di tipo tradizionale quindi la possibilità di realizzare l'implementazione dell'analisi economica del diritto sul diritto vigente in termini di una sua modifica di una scrittura ad esempio di nuove norme dipende molto anche dai margini che il diritto da un lato lascia l'interpretazione o anche la creazione di nuove norme secondo questi canoni secondo questi standard e questo ovviamente però può generare un potenziale conflitto tra come dicevo le interpretazioni delle disposizioni normative improntate all'efficienza secondo un'analisi economica del diritto e altre forme di interpretazione facciamo l'esempio dell'illecito civile il tort law appunto il caso di calabresi insomma l'articolo famoso di calabresi che citavo all'inizio è proprio dedicato è stato uno dei primissimi studi dedicati appunto all'illecito civile al risarcimento del danno in che senso il risarcimento del danno può essere ambito dell'analisi economica del diritto perché nell'impostazione tradizionale quella dei giuristi tradizionali la questione centrale è la sopportazione del danno per l'analisi economica del diritto la questione centrale invece è come ridurre o prevenire il danno in modo da realizzare questo massimo benessere collettivo facciamo un esempio immaginiamo una regolamentazione riguardante le norme di sicurezza di un dato produttore cioè di un produttore che produce oggetti che devono debbano che devono essere regolamentati da alcune norme di sicurezza ce ne sono tantissime norme di sicurezza sono presenti dovunque nell'ambito della produzione economica allora la questione può essere formulata in questi termini in che modo un certo regime di responsabilità per danni che ad esempio grava sul produttore di un bene potenzialmente difettoso condizionerà il suo comportamento o la sicurezza e il prezzo di quel prodotto o il comportamento dei consumatori lasciamo adesso un attimo da parte il comportamento dei consumatori e concentriamoci sull'analisi del comportamento del produttore che cosa farà il produttore se è davvero homo economicus lui secondo l'analisi economica del diritto dovrà considerare almeno due tipi di costi cioè il costo della sicurezza cioè il costo dell'implementazione delle norme di sicurezza e il costo delle della sanzione giuridica per risarcimento danni qualora non implementasse queste norme di sicurezza la sua scelta verterà su quel livello di produzione che fatta un'analisi costi benefici fa sì che il costo della sicurezza dovremmo usare una terminologia più precisa dovremmo parlare di analisi marginale cioè di dove sostanzialmente queste due variabili costo della sicurezza e sanzione giuridica si guagliano in termini di costo marginale ricavo marginale e quindi sceglierà il livello di produzione che massimizza il suo profitto questo è il modo in cui attraverso diciamo un'analisi tipicamente economica l'analisi economica del diritto cerca di dire guarda legislatore se dovessi introdurre una norma che regolamenta la sicurezza anche pensate la sicurezza sui luoghi di lavoro o come nel caso di cui parlavamo la sicurezza della produzione di un determinato prodotto che deve rispettare certi standard appunto di sicurezza tu devi tener conto anche del ragionamento del produttore non solo del consumatore potenzialmente danneggiato cioè dobbiamo trovare un bilanciamento tra i due benesseri del consumatore e del produttore di cui parlavamo prima perché potremmo trovare delle norme che in qualche modo siano efficienti nel senso che soddisfino scambi mutuamente vantaggiosi tra produttore e consumatore per semplificare un po immaginate un consumatore che dice ma io perché devo pagare di più questo prodotto perché sostanzialmente gran parte del suo costo è dovuto all'implementazione di norme di sicurezza io potrei ad esempio volerlo lo stesso non importandomi così tanto di queste norme di sicurezza cioè mi assumo io il rischio sono io che dico prendo questo prodotto sono disposto ovviamente a pagarlo di meno e quindi io ci guadagno ma ci guadagna anche il produttore a proposito appunto di transazioni che realizzano massimo benessere collettivo cioè un mutuo vantaggio almeno per le due parti qui in gioco e potrei appunto decidere di comprare questo prodotto lasciando perdere tutto ciò che riguarda le norme di sicurezza assumendomi questo rischio se in questo momento ad esempio mi conviene comprare quel prodotto a un prezzo più basso non mi interessa tanto che il produttore abbia rispettato quelle norme di sicurezza ben venga chiudo con un altro esempio il diritto antitrust cioè in che modo ad esempio si chiede l'analisi economica del diritto il monopolio altera l'allocazione delle risorse per l'analisi economica del diritto bisogna considerare attraverso l'analisi costi benefici cba sta per cost benefit analysis bisogna considerare la riallocazione delle risorse dai consumatori al monopolista perché monopolio se avete fatto un minimo di microeconomia sapete bene che crea questo tipo di problema e crea anche una cosiddetta perdita secca per i consumatori che non comprano i prodotti del monopolista in terzo e ultimo luogo si possono e si se vogliamo mettere sul piatto della bilancia tutti i costi benefici a livello sociale uno potrebbe anche chiedersi ma l'autorità antitrust che abbiamo tirato su per il cosiddetto diritto antitrust quanto ci costa sto un po semplificando in maniera anche drammatica ma non è una domanda peregrina per l'analisi economica del diritto questo diciamo per darvi un'idea dell'approccio dell'analisi economica del diritto ad alcuni problemi vi dicevo all'inizio è stata implementata sviluppata in una miriade di riboli e quindi qui non possiamo che darvi non posso che darvi una come dire non posso che seminare in uno stile tipicamente seminariale alcune cose che in verità richiederebbero molto molto più tempo per approfondirle però è importante diciamo almeno iniziare a focalizzarsi su queste nozioni fondamentali senza le quali ovviamente anche il futuro approfondimento non sarà possibile allora io vi ringrazio per l'attenzione la seconda lezione o meglio la lezione 1.1 come l'abbiamo chiamata sull'analisi economica del diritto finisce qui noi ci rivediamo ovviamente nella prossima puntata nella prossima lezione e quindi vi saluto e vi ringrazio di nuovo alla prossima lezione